Uno Più, un marchio tutto italiano, nato da un'idea di arredare gli spazi aperti con la stessa cura e importanza, riservata solitamente all'interno della casa. Nasce spontaneo un connubio fra gli sport dell'aria aperta e il nostro modo di intendere il relax e la vita conviviale all'aria aperta. Tra gli sport che abbiamo selezionato è certamente il golf, costituisce l'anello più importante di questo legame con la natura, in quanto è l'esempio classico di relax, di vita all'aria aperta, di godimento della giornata e dell'aspetto conviviale della vita insieme agli amici, insieme ai colleghi. Da qui il progetto, partito dal 2013, di un circuito di gare, l'Uno Più Golf Trophy, che per quest'anno si articola su 14 prove più una finale, tutte ospitate da circoli prestigiosi. Uno Più ha deciso di avvalersi della collaborazione del Royal Park e Rollery, che è diventato il nostro partner tecnico. Insieme a loro abbiamo sviluppato questo concetto di circuito, che si concluderà qui in ottobre con la finale internazionale. Un circuito da segnare sull'agenda, per la ricchezza dei premi e l'eleganza degli allestimenti, alcuni particolarmente studiati per accogliere i golfisti. La collezione Lesarck rappresenta a pieno i valori intrinseci nel brand 1 o più, quindi Tec, che è l'anima dell'azienda stessa, abbina da un metallo con un tessuto in tempo test che rappresenta il carattere innovativo. Reputo che abbinare il mondo 1 o più, quindi un mondo outdoor, con il mondo del golf, possa essere solo un connubio perfetto e indelebile. Quindi quale miglior momento e quale miglior kermess per presentare, per ammirare i prodotti 1 o più, se non in un campo da golf, specialmente in questa giornata. Grazie Grazie Grazie